Ero in una situazione molto difficile, che vivevo con grande dolore, diciamo a parte un periodo difficile della separazione, così vivevo male, sentivo in questa situazione un peso profondissimo derivato dal fatto che da anni, ma ti parlo decine di anni, mi sono reso conto di vivere in questa dipendenza dalla pornografia e dalla masturbazione compulsiva, che non mi sembrava poi così male, non mi sembrava neanche un problema fino a un certo punto, finché poi a un certo punto è diventata una cosa per cui, alla prima difficoltà che incontravo durante la giornata, dovevo assolutamente avere la mia pastiglia di... cioè l'antidepressivo, ecco, che poi l'antidepressivo non era, però di fatto mi dava quel momento di sollievo che poi in realtà ero costretto a ripetere, a tornare lì. Che risultati hai raggiunto facendo il percorso? Le cose più forti sono state in ordine, diciamo, dall'inizio, le prime meraviglie, è stato dopo un mese circa in cui cominciavo la ritenzione, cominciavo a togliere la pornografia e quindi, insomma, anche con difficoltà e ricadute, però mi sono di nuovo visto allo specchio. Questo è stato il primo effetto, uno potrebbe dire speciale, invece è l'effetto normale. Cioè, mi sono reso conto che non mi guardavo, non mi vedevo più allo specchio da tempo, invece mi guardo allo specchio e mi vedo. Questo ha a che fare con ritrovare proprio il contatto con se stessi, con la propria intimità e già questo è già enorme. Poi è già tantissimo. Poi mi è successo di, man mano che proprio, è proprio a che fare con, man mano che l'energia sessuale passa da un piano mentale al corpo, è proprio come incarnarsi nella vita, cioè è proprio come sentire la vita e ogni giorno sentirla di più. E quindi ho cominciato di nuovo a scrivere poesie, ad avere ispirazioni per scrivere, che ne so, scrivere racconti, desiderio di scrivere racconti, ad avere i desideri vividi, vivaci proprio. Cioè, a sentire, cazzo, io quella cosa lì l'ho sempre sognata su un piano mentale, ma la desidero, la voglio, non so, sentirla così. E poi è cambiata la voce, nel senso che questa meraviglia, cioè quando la sessualità, l'energia sessuale torna nel corpo, la voce non parte più solo dalla gola, ma la senti partire dalla pancia, dai genitali, la tua voce, no? E quindi le persone intorno cambiano, cioè cambia il tuo modo di relazione. Con la partner, con la partner che ho avuto e la partner che ho adesso, c'è un livello di condivisione, un livello di serenità, di voglia di sperimentare, ma non è solo piacere, perché il piacere, ok, è il mare nel quale ti immergi mentre fai sesso, ok? Ma vai da qualche parte in quel mare, cioè lo sperimenti sempre di più e arrivi in intimità con l'altro, che è un mondo che si apre sempre di più. Come è cambiata la tua vita togliendo la pornografia e la masturbazione compulsiva? E facendo la ritenzione insieme, se puoi riassumere? Riassumere. Allora, vabbè, un po' quello che sento io e un po' quello che condividono tutti è proprio avere più focus sulle cose, più il desiderio vivo di fare le cose, quindi i fini dei tuoi desideri non sono delle cose che ti immagini, ma proprio le senti. la voglia di esprimersi, la voglia di esprimersi a livello artistico, la voglia di esprimersi nelle relazioni, di esserci nelle relazioni, di sperimentarle, di sperimentare, la voglia di conoscere la forza, anche la fiducia di conoscere, perché è un passo di coerenza anche quello, è un passo in cui in fondo riconosci che c'era qualcosa che non andava a vivere la sessualità in quel modo lì, anche se in quegli istanti ti sentivi gasato, ok? C'è qualcosa, un messaggio del tuo corpo che qualcosa non funziona, e quindi quando quella cosa lì cominci a sentirti di nuovo allineato con il tuo corpo, con la tua energia, è proprio un'altra vita, è un'altra vita, non so più come dirlo, ecco, è proprio così. E se dovessi raccomandarmi al tuo miglior amico o alle persone che ci stanno guardando, cosa gli diresti? Ah, gli direi sicuramente una cosa che penso e che ho pensato tante volte, è che per quanto mi riguarda pensavo di conoscere cos'era il sesso, ma... Non ero neanche fuori dalla porta che stavo bussando, ecco, ero proprio... Immaginavo cos'era, invece c'è un mondo, c'è un mondo da sperimentare, e c'è un... e c'è il modo di sperimentarlo... Beh, perché... Non lo so... Perché c'è una dimensione della vita enorme, molto più grande di quella che... di quella che appare. L'abbiamo... 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 Grazie a tutti